I carabinieri della stazione di Siculiana, durante un servizio notturno nella riserva naturale Torre Salsa per la prevenzione e repressione della pratica del bracconaggio, hanno bloccato due persone equipaggiate di tutto punto per la caccia di Frodo. I due SP e TG, queste le loro iniziali, braccianti agricoli della zona, a bordo di un'autovettura con darga straniera, sono stati fermati dai militari dell'arma, con 141 cartucce calibro 12, alcune delle quali a pallettoni, due lampade alogene e due capi di selvaggina, evidentemente catturati poco prima. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, i due soggetti invece sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato è di detenzione abusiva di armi e munizioni. La selvaggina recuperata è stata affidata ad una ditta della zona specializzata per lo smaltimento.